Dal 29 dicembre una rassegna da non perdere, Città Sant'Angelo Music Festival al Teatro Comunale, stagione 2023-2024. Opera, balletto e concerti si andrà avanti fino al 3 maggio. Il direttore artistico, il maestro Alessandro Mazzocchetti. Partiremo il 29 dicembre con due appuntamenti, uno pomeridiano e uno serale alle 17 e alle 21, forse del balletto natalizio per eccellenza che è lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, con il corpo di ballo del balletto di Pescara e l'orchestra da camera del Città Sant'Angelo Music Festival in una nuova versione orchestrale e una riduzione del maestro Giuseppe Renzetti. Siamo contentissimi anche quest'anno di continuare la collaborazione con il corpo di ballo del balletto di Pescara e di invitarvi a questo capolavoro assoluto di Tchaikovsky. Stiamo lavorando, tutta la produzione del Città Sant'Angelo Music Festival sta lavorando, le scenografie sono a cura dell'associazione Tela Pinta, le luci di Michele Gabriele. Insomma, stiamo preparando, speriamo davvero un'inaugurazione importante ed interessante per tutti. Poi sono tantissimi gli appuntamenti ed eterogenei tra di loro, quindi per un pubblico diversificato. Sì, quest'anno sicuramente la varietà è una delle caratteristiche della nostra stagione. Sono 17 appuntamenti che vanno dal 29 di dicembre appunto fino a maggio. Abbiamo il balletto, abbiamo l'opera conclusiva su Orangelica il 4 e 5 maggio, ma abbiamo anche concerti sinfonici in collaborazione con la Sinfonica Abruzzese, abbiamo un Pierino e il Lupo di Prokofiev e una nuova commissione sul continuo della fiaba musicale di Pierino e il Lupo di Prokofiev. Ma abbiamo anche appuntamenti dedicati al centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, chiamati a teatro con Puccini, appuntamenti per bambini, per ragazzi con dei laboratori, concerti all'aperto, concerti all'interno della collegiata. Insomma abbiamo cercato di dare un po' di varietà di genere e soprattutto per cercare di accontentare un po' i gusti di tutti quanti. Maestro, per concludere ricordiamo l'inaugurazione. Il 29 dicembre ore 17 e ore 21 presso il Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, Michela Sartorelli coreografa del balletto di Pescara e io, Alessandro Mazzocchetti, direttore dell'orchestra da camera del Città Sant'Angelo Music Festival, lo schiacciano ucce di Tchaikovski. Sì, siamo contenti di aver scelto questo titolo e speriamo veramente di immergerci e di regalarvi delle emozioni. Vedrete un sipario che si aprirà, vedrete della neve all'interno del nostro palcoscenico, delle scenografie che girano, che cambiano e quindi ci immergeremo veramente in questa dolcezza del Natale, in questo tepore del calore del Natale con la straordinaria musica di Tchaikovski e quindi vi aspettiamo.